Sì, sono molto orgogliosa di questa partita perché ci siamo sapute rialzare dopo essere cadute in un burrone veramente profondo. Siamo state molto brave a reagire così e spero che questi mondiali vadano a finire bene per noi. Nonostante il gruppo sia diverso da quello che tutte le settimane gioca al campionato di Serie 2, lo spirito è immutato, è lo stesso. Qual è l'aria che si respira qui nel collegiale permanente della Nazionale? È una cosa indescrivibile perché siamo 16 ragazze e lottiamo con noi stesse per arrivare ad un unico obiettivo, vincere. Sei la più giovane del gruppo azzurro in questa manifestazione, però sei già un bel punto di riferimento anche per le tue palleggetrici. Che effetto ti fa questa consapevolezza? Ad un certo punto mi spaventa perché ho molta responsabilità addosso, però sono felice perché loro si fidano di me e quindi posso tirare quanto voglio senza preoccuparmi di quello che succederà. In bocca al lupo e buona continuazione. Grazie Crepi. Anna Danesi, un ultimo punto spettacolare tra i tanti, un contributo muro incredibile, premio di MVP, meglio di così non si poteva concludere questo torneo. Sì, sono molto contenta, soprattutto della prestazione che abbiamo fatto tutte insieme, perché non è facile partire sotto 2-0 e poi recuperare e vincere una partita. Anche se giocavamo in casa e il tifo era più a nostro favore, comunque ce l'abbiamo messa tutta e poi il risultato si è visto. Nel punto di vista tecnico-tattico, qual è stata la svolta secondo te di questa partita? A mio parere l'abbiamo murata molto nelle fasi loro più deboli, gli attacco a 2 dove i centrali non venivano troppo usati e davano palla in 4 alla seconda linea, quindi il muro è stato fondamentale secondo me. Quanto vi servirà adesso, per voi che ritornate al ritmo settimanale della Serie A2, questa esperienza che si è conclusa così positivamente? Molto anche e soprattutto dal punto di vista emotivo, perché queste partite ci possono dare solamente una carica in più per fare ancora meglio. Complimento in bocca a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.